ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è il terzo veicolo moddato di oggi il pezzo forte che vi avevo detto eccolo qui questa è la coquette classica è la coquette classica che fu rilasciata in un dlc anzi con l'esattezza ragazzi non è una coquette classica è mezza coquette classica tenetelo bene presente è fighissima ragazzi a me piace tantissimo e questo sarà capito insomma molto bella molto particolare un'auto comunque rara da tenere ripeto sempre per l'ennesima volta queste auto non si fanno allo santos custom non le fanno da nessuna parte andate allo sfascio e ve le recuperate no ve le fa un moddere ragazzi ve le fa un moddere se conoscete qualcuno potete farvela fare se no attaccate al cazzo o ve la fate passare da mi consuma qualcosa del genere dai questo sarà il mio altro veicolo come si dice raro che passerà nella mia collezione di veicoli moddati nulla poi metterò un video un altro video dove aggiungerò il mio strano garage ragazzi quello però lo passerò domani credo anche perché per oggi ho già dato quindi niente quindi noi ci risentiamo domani insomma i video 1 2 3 quanti cazzo ne volete al giorno dei video 15 no scherzo se c'è stanno i video io rifaccio se c'è sta qualcosa da fa si fa se non c'è non c'è ragazzi per quanto riguarda il glitch dei soldi ce l'avete funziona benissimo io l'ho provato e niente ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a ciao